Ciao! Benvenuto ad un nuovo audio di Magnetismo Personale. Oggi ti darò delle dritte sulle foto da mettere su Tinder. In qualsiasi app di incontri sono soprattutto le foto a fare la differenza, proprio per questo motivo che in questo audio troverai una vera e propria guida sulle foto da mettere su Tinder. Mettere su Tinder le foto giuste che attirano l'attenzione delle ragazze vuol dire entrare in quel circolo virtuoso che ti permette di rimorchiare su Tinder facilmente. Considera anche che più le tue foto piaceranno alle ragazze, più l'algoritmo di Tinder premierà il tuo profilo e ti mostrerà prima degli altri uomini, e quindi avrai molte più possibilità rispetto a chiunque altro. Proprio per questo motivo che non puoi ignorare l'importanza di mettere le foto giuste su Tinder. Prima di andare avanti, ti ricordo che se ci stai ascoltando da YouTube, puoi iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi contenuti. Oppure di seguire i nostri vari profili di riproduzione streaming, come iTunes, Spotify o altri. Ma torniamo a noi. Ecco le otto tipologie di foto da avere su Tinder per avere successo. La prima tipologia è foto con il sorriso. Le donne sono particolarmente suscettibili alle emozioni. Proprio per questo motivo che tra le tue foto non può di certo mancare almeno una foto mentre stai sorridendo. Puoi pensare di farti scattare da qualcuno foto spontanea mentre sorridi, soprattutto all'esterno. Quindi, ad esempio, mentre sei seduto ad un bar, oppure mentre passeggi in un luogo particolare. Per ovvi motivi, prima di scattare le foto, assicurati di prenderti cura della bellezza del tuo sorriso. La seconda tipologia sono foto che mostrano sicurezza. Le donne cercano uomini sicuri. Proprio per questo motivo che puoi pensare di pubblicare foto in pose che emanano sicurezza personale, prestando quindi attenzione al linguaggio del corpo. Prova quindi a scattare foto dove hai uno sguardo profondo, hai il mento alto e spalle larghe. L'ideale per scattare foto che emanano sicurezza in te stesso è quella di scattare foto solo ed esclusivamente in pose che ti fanno sentire a tuo agio. La terza tipologia sono foto mentre svolgi attività particolari. Come ho ribadito in diverse volte, all'interno delle analisi profilo che ho fatto all'interno di Metodo Dating Hack, il mio corso su come conoscere donne a comando grazie a Tinder e ad altre app di incontri, che puoi trovare sul nostro blog magnetismopersonale.com, le foto migliori sono quelle che ti rappresentano mentre svolgi attività interessanti. Bisogna quindi evitare selfie tutti uguali e prediligere foto mentre si fa surf, immersioni subacquee, viaggi o qualsiasi altra attività fuori dal comune che davvero poche persone fanno. Quel che rende interessante un profilo su Tinder di un uomo agli occhi di una donna è principalmente l'essere diverso da tutti gli altri. È questo quello che aizza la sua attenzione. La quarta tipologia sono foto che valorizzano i tuoi pregi. Tutti noi abbiamo pregi e difetti, perché quindi non valorizzare i pregi che abbiamo. Che si tratti del sorriso, della forma del viso oppure del fisico, puoi pensare di valorizzare questi tuoi pregi nelle foto, scegliendo le pose giuste e le giuste condizioni di luce. La quinta tipologia sono foto che minimizzano i tuoi difetti. Seppur è importante non fare catfishing, cioè sembrare un'altra persona, dall'altra parte dobbiamo tenere in conto che su Tinder è la prima impressione che conta e quindi eventuali difetti messi in risalto potrebbero creare una falsa prima impressione negativa. Proprio per questo motivo che nelle foto puoi pensare di minimizzare i tuoi difetti, scegliendo ad esempio outfit che ti stanno particolarmente bene e si adattano alla tua fisicità. La sesta tipologia sono foto total body, mezzo busto o un quarto. Le foto ideali da mettere su Tinder sono le total body, ideali soprattutto se c'è qualcosa di particolarmente interessante da mostrare nello sfondo. Le foto a mezzo busto oppure dalle spalle in su, ideali soprattutto con un effetto sfocato sullo sfondo. Evita foto dove non si vede il volto, soprattutto se si tratta di selfie davanti allo specchio senza t-shirt. La settima tipologia sono foto che piacciono ai tuoi amici. Può sembrare strano a dirsi, tuttavia puoi pensare di dare priorità alle foto da mettere su Tinder a quelle che piacciono particolarmente ai tuoi amici, soprattutto se si tratta di donne. Se siamo noi in prima persona a scegliere, potremmo avere una percezione falsata di quelle che sono le migliori foto, a causa dei paradigmi mentali che abbiamo di noi stessi. Proprio per questo motivo che il mio consiglio è sempre quello di chiedere consiglio ad altri. L'ultima tipologia che ti consiglio sono foto scattate da un professionista. Questo è un qualcosa che faccio anche io in maniera ricorrente quando ho bisogno di aggiornare le mie foto su Tinder. Ed è un qualcosa che consiglio di fare anche a te se ne hai l'opportunità. Per ovvi motivi, nessuno meglio di un fotografo professionista può scattare foto per te che risaltino la tua persona. Ecco perché puoi pensare di assoldarne uno. Porta con te differenti cambiate, almeno 5 o 6, scegli differenti luoghi e chiedi al tuo fotografo di scattarti foto per almeno una mezza giornata. Potresti pensare di pagare il tuo fotografo ad ore, così come faccio anche io. Abbiamo visto in questo audio quali sono le tipologie di foto da mettere su Tinder per avere successo nel conoscere nuove ragazze grazie a questa potentissima app. Con Tinder, grazie alle giuste strategie, puoi trasformare il tuo cellulare in una macchina da seduzione. Per riuscirci, devi però conoscere ulteriori avanzate strategie che ti permettono di hackerare legalmente l'algoritmo delle app di incontri e quindi conoscere ragazze facilmente. Trovi tutte le mie strategie avanzate per conoscere valanghe di nuove ragazze all'interno del mio percorso metodo dating hack. Scopri il metodo collaudato per conoscere una valanga di nuove ragazze sui siti di incontri. Scopri l'esatto metodo che mi ha permesso di fissare ben 18 nuovi appuntamenti in sole 48 ore. Puoi trovare questo e altri articoli sul nostro blog e se vuoi, nelle nostre risorse premium, puoi trovare molto altro che può dare una svolta alle tue relazioni. Basta andare su magnetismopersonale.com slash risorse oppure direttamente dal nostro sito magnetismopersonale.com cliccare sul pulsante rosso risorse. Se questo audio ti è piaciuto e ci stai ascoltando da YouTube, iscriviti al nostro canale per restare sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Se invece ci stai ascoltando da un servizio di streaming audio come iTunes, Spotify o altri, segui il nostro profilo per poter ascoltare anche altri contenuti interessanti. Per oggi è tutto, ti do appuntamento al prossimo audio.